Noi siamo qui e vi difenderemo comunque per l'installazione di difficilità che c'è l'opera di protezione atomica per l'Italia che in Sofia c'è internaia e dei risetti e quindi state sicuri che soprattutto... Qua siamo nel giardino, questa è una pianta di indicatore musiche. Guardate che bellissimo che è. Riusciamo a trovare qualche. E qui c'è anche un bellissimo sole. Come una macchina potabile, la solita, una macchina di vita potabile presidenziale di feglie... Che bello! ... 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